Il presidente Mattarella, in occasione dei 170 anni della Polizia di Stato, ha consegnato al piccolo Tiago, 8 anni, la medaglia per il padre, un agente ucciso in una rapina. Giorgio Specchia ci racconta la storia di questa famiglia. Il mio figlio è fiero ed orgoglioso di suo padre. Lo era già prima, perché già per lui era un eroe. Oggi poter fare questa cosa per lui è stata onorarlo ancora una volta. Tiago ha da poco compiuto 8 anni. Al petto ha già una medaglia d'oro al valore civile, quella alla memoria del padre. È morto giovane Pasquale Apicella, travolto a Napoli, dei rapinatori che ha provato a fermare. A volte si dice che il tempo aiuta, ma il tempo non aiuta. Anche se sono passati due anni, per noi che abbiamo perso Lino, è come se fossero passate due ore. Nel frattempo però qualcosa è cambiato, perché quella stessa divisa oggi la porta anche lei, Giuliana Ghidotti, agente tecnico della Polizia di Stato. Questo era il suo mondo. È diventato il mio. I suoi ideali erano i miei, quelli della giustizia, quella della legalità. Oggi condivido il suo mondo a 360 gradi. Cosa rappresenta questa medaglia? Eh, rappresenta tutto. Io come mio figlio ero già orgogliosa prima. Oggi sono ancora più onorata. Onorata che mio marito avesse scelto me.